Bella raga, benvenuti in un nuovo video, oggi stiamo da Eden, il paradiso del pistacchio e vi facciamo vedere quello che ci mangiamo oggi, logicamente tutto a base di pistacchio con antipastino e i primi è un bel dolce, a dopo raga ci sei? si buone raga, queste sono le polpettine con le polpettine con le polpettine, buonissime da paura, assaggiamo un attimo questo qui questo che era? è pieno di mortadella raga, buonissimo però noi facciamo una cosa veramente zozza a dopo raga, buonissimo spazzolato tutto dovrà scappata, vai, basta allora raga, ho arrivato il gnocchetto al pesco con burrata e il cascio al pepe, mamma mia raga com'è? come vedete? raga, taste test, gnocchetto buonissimo buonissimo il gnocchetto è croccantissimo e buonissimo che buono a dopo raga questo è il tortino al pistacchio si muove da solo e questa invece è la torta e la cheesecake ovviamente col peppo alla crema di nocciola e pistacchio molto molto bello allora bella raga, oggi stiamo qua a termine di fare un video basta solo questo raga, vi dico solo questo solo questo qua quindi preparatevi che è arrivato allora raga, questo è il mio milkshake cantina butter oreo eccolo qua e bacon raga e pezzetti di bacon facciamo un taste test madonna raga è troppo buono troppo 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 i pezzettini di bacon ciao ciao raga allora oggi ci abbiamo 5 guys abbiamo preso due panini il menù patatine grandi vediamo un po' che c'è qua dentro apriamo qua allora logicamente con i panini all the way raga vediamo un po' vai fai le vede qua vale che roba ma le linee a non finire proprio il bello di 5 guys è che vi mettono le patatine raga dentro la busta vale che figata panini qua dentro e andiamo a vedere proprio quello che c'è a dopo raga una bella inzuppata le patatine dovete inzuppare nel milkshake no? che nel ketchup e faccio un po' in po' faccio una leccecia ma una po' mi sta stressando vediamo un po' il panino ragazzi ragazzi è all the way senza fungi vai regà face test buon appetito buon appetito raga buon appetito raga buon appetito raga buon appetito raga la cacio e pepe col pistacchio tutto buono la cheesecake con col pistacchio tutto buono raga consigliatissimo andateci siamo andati pure da 5 guys raga che vodica fa buonissimo patatine buone tutto buono e niente raga alla prossima mi raccomando iscrivetevi al canale commentate bella raga un abbraccio